Per avere una pelle perfetta vi consiglio di seguire uno stile di vita sano cercando di dormire almeno 7 ore a notte idratandovi tanto, integrando anche con due bicchieri di tè verde al giorno Se volete fare un trattamento detox vi consiglio l'argilla ingrediente naturale usato sin dall'antichità per purificare e per favorire il ricambio cellulare I laboratori L'Oreal Paris hanno selezionato tre argille minerali e le hanno associate al carbone in una linea di prodotti dall'effetto detox per una skin care routine che diventerà subito irrinunciabile Per prima cosa detergete il vostro viso con il gel all'argilla e al carbone Continuate la vostra skin care routine con la maschera detox all'argilla pura di L'Oreal Paris che serve per purificare la vostra pelle e per dare luminosità all'incarnato Mi raccomando stendetela in modo uniforme su tutto il viso Evitate la zona degli occhi e delle labbra Dopo averla tenuta in posa per 10 minuti risciacquatela con dell'acqua tiepida Potete anche aiutarvi utilizzando delle salviette o una spugnetta per eliminare meglio il prodotto Fate questa maschera almeno una volta alla settimana Avrete una pelle più luminosa e più purificata Ragazze, la strada per una pelle effetto detox parte da una sana alimentazione e da delle buone abitudini Un consiglio che vi do è quello di bere una tisana decorativa prima di andare a dormire Con all'interno ingredienti come il carciofo e la curcuma E che la detox sia con voi Mi raccomando, iscrivetevi al canale YouTube L'Oreal Paris per seguire i prossimi contenuti Grazie! 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 Grazie!